Sono iniziati ieri i primi interrogatori per 4 dei 13 arrestati nella maxi operazione antidroga tra Calabria e Messina avvenuta nei giorni scorsi. Al Tribunale di Messina, di fronte alla giudice Tiziana Leanza e ai pubblici ministeri di Palazzo Piacentini Giulia Falchier e Rosanna Casabona, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Piera Mondello, Salvatore Ratto e Salvatore Ridinò. L'unico a rispondere alle domande è stato Francesco Cotugno, il quale ha ammesso soltanto l'uso di droga. I difensori degli accusati hanno presentato istanza di scarcerazione o sostituzione di misura cautelare, con parere contrario dei pubblici ministeri. Compariranno oggi invece al Tribunale di Siracusa Michele Siragusano, Dario Di Perna, Emiliano Franzone, Mircom Manieci e Antonino Tuccio, mentre tra Calabria e Catania saranno ascoltati Sebastiano Pelle e Bruno Emanuele, Giuseppe Licastro e Antonino Pappalardo.